60 attori, professionisti e abitanti del luogo metteranno in scene il miracolo della natività tra le stradine del paese dove le vecchie casupole contadine scavate nella roccia sembrano la betlemme di 2000 anni fa, tra musica, teatro e luci. A Caltabellotta torna il presepe vivente, giunto alla 29esima edizione. Si tratta della riedizione in forma teatrale di quello che è stato il primo presepe vivente realizzato in Sicilia all'interno di un borgo. Quest'anno, come l'anno scorso, è una edizione riveduta e corretta, nel senso che abbiamo cercato un po' di eliminare quello che di difetto c'era stato l'anno scorso, nel senso che la prima sera principalmente per l'afflusso oltremisura da parte dei visitatori siamo stati coscretti un pochettino a preoccuparci per quello che poteva succedere. Quest'anno noi abbiamo fatto invece un piano di sicurezza affidato a un professionista esterno con l'autorizzazione da parte della questura e della commissione per i pubblici spettacoli. Sarà una manifestazione a numero chiuso, i biglietti saranno venduti online e quindi invito tutti i visitatori... Un accesso con il cupone sul telefonino... Sì, un cupone sul telefonino e quindi invito chi vorrà venire, chi verrà a Caltabellotta a premonirsi, diciamo, del biglietto da fare, ripeto, online. La manifestazione, abbiamo cambiato l'ingresso della manifestazione Caltabellotta e Città Presepe, anche dietro consigli di esperti abbiamo variato il percorso, poi si svolgerà diciamo nella parte alta sempre di Caltabellotta in mezzo a tanti vicoli, piccolissimi vicoli, piccoli cortili e abitazioni incastonate nella roccia, insomma sarà un po' come rivedere la Bethlehem di duemila anni fa. Senti, mi incuriosisce molto il fatto che la gente di Caltabellotta partecipa ed è protagonista di questa iniziativa, cosa più bella è questa. Sì, noi abbiamo coinvolto tutte le associazioni che ci sono a Caltabellotta, ma non solo, oltre all'associazione che sono state molto disponibili e che lavorano per la buona riuscita diciamo della manifestazione. Abbiamo anche interessato per esempio la produzione Savattere, così come abbiamo fatto l'anno scorso, altre associazioni esterne come Cunto e Quando, però non mi vorrei molto dilungare a descrivere queste cose perché voglio che vengano a vederle, a sentirle di presenza tutti coloro che avranno diciamo questo piacere, ci faranno questo onore. E quindi 26-27 dicembre e poi 5-6 gennaio. Si articolerà praticamente in quattro giornate, Caltabellotta e Città Presepe, 26-27 dicembre 2023, 5-6 gennaio 2024. Gli spettacoli, diciamo così, o i turni sono due, si entrerà alle 17.30 per ultimarlo alle 17, alle 19.30 e poi dalle 19.30 alle 21.30 con un massimo di 2.500 visitatori, cioè 1.250 per ogni turno. Quindi a numero chiuso proprio per evitare confusione e per consentire a chi verrà a Caltabellotta di gustare la bellezza del luogo e della manifestazione. Tra le novità di quest'anno l'allestimento dell'area food al di fuori del percorso artistico. Area food dove sarà possibile gustare con un piccolo contributo i prodotti tipici della gastronomia locale. Il biglietto sarà modesto, si tratta praticamente di 4 euro per visitare la zona, la zona diciamo sagra, chiamiamolo così, perché l'anno scorso all'interno del percorso c'erano anche le degustazioni. Quest'anno invece abbiamo fatto uno all'esterno, siamo riusciti a dividere un po' la manifestazione, la manifestazione sagra dalla degustazione. Le degustazioni le abbiamo fatte in un'area all'esterno del presepe. Quindi chi vorrà praticamente potrà comprare il cupone anche per intero e gustare quelle che sono le prelibatezze di Caltabellotta.